No, ti prego, non provare il letto, dai, vattene E' andata Vattene Se ne va! Te l'ho detto, te l'ho detto, vedi però Non ti vede, non ti sente È quello che ho detto Sta tornando No, no, sta provando l'altro letto E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, che è oggi che va venerdì 13 E torniamo su questo gioco, questa volta con un nuovo piano Che non so se andrà bene, però Stef lo vuole provare e lo proveremo Allora, allora, scusami, eh Che allora Cosa hai contro un piano dove restiamo dentro un bagno? È bellissimo Questo piano non è solo tuo, perché ce l'hanno anche consigliato tanto nei commenti Sì, di restare nascosti Non dicevano proprio dentro un bagno, dicevano più che altro sotto l'letto Era un po' più serio, perfetto E vedere se Jason ti trova Allora, allora, per far funzionare questo piano Noi dobbiamo cercare di scegliere il personaggio migliore E i perks migliori Quindi abbiamo deciso di, prima di iniziare la partita Farevi vedere un pochettino la nostra tattica Cosa scegliere, cosa non scegliere Mi sembra giusto È una parte molto importante di questo piano Senza questa scelta, secondo me, è totalmente impossibile Quindi prima di tutto, Feren, dobbiamo scegliere un personaggio con il stealth altissimo Ce l'ho già Il mio solito personaggio è uno stealth altissimo Allora, che... Lei, guarda lo stealth Ma c'è un maschio con 10? Fatemi capire Non lo so Non c'è, non c'è Vedi, ma perché? Questa è discriminazione Mi tocca giocare le fanciulle Perché non mi hanno fatto il personaggio con 10 di stealth Come se l'uomo non si volesse nascondere da Jason Perché l'uomo è più forte e dovrebbe andare a combattere Ma nella realtà, guarda, mi nasconderei sotto terra In ogni caso In ogni caso Stealth 10 è il massimo che possiamo avere Ed è perfetto Quindi ci permette, diciamo, di farci notare più difficilmente dalla seconda vita di Jason Quella che, diciamo, gli aumenta i sensi Adesso cerchiamo con i perks di darci qualche, diciamo, aiutino in più Per nasconderci Perché altrimenti è comunque davvero tosta Allora, questi tre non sono proprio il massimo Però ci dobbiamo accontentare Sono quelli che abbiamo Il primo mi permette di muovermi più veloce quando sono accovacciato E di avere la chance di non essere notato dai sensi di Jason Quindi addirittura proprio stando semplicemente accovacciati in giro per la foresta Posso non essere visto Il secondo è semplicemente lo spawnare con la mappa Che fa sempre comodo per capire dove siamo e dove non siamo E il terzo ci permette di farci notare molto meno quando siamo nascosti sotto un letto Quindi cambiamo il piano Non ci nascondiamo in un bagno ma sotto un letto Perché comunque abbiamo un perks per quello Avessimo avuto il perks per stare in bagno Saremmo stati in bagno I miei sono leggermente diversi Ma sempre mi permettono di avere, capito, di evitare i sensi di Jason E comunque di nascondermi al meglio Allora, fammi ricontrollare che è tutto a posto Celioma me li ha salvati Sì, perfetto Siamo pronti Vediamo se funziona Proviamo a vincere stando nascosti 20 minuti Ci siamo Sto già camminando piano 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 E sto cercando di andare dentro questa casa Allora Eppure io sto cercando delle case Io sono lontanissima dalle case Abbiamo pensato di stare separati In modo tale da, diciamo, vedere se magari anche solo uno dei due ce la fa Perché comunque No, anche perché poi Due differenti case e due possibilità Se scopriamo che non funziona Siamo morti entrambi Totalmente Esatto Allora, qui è pieno di letti C'è già Jason, vero, Steph? Sì E allora sei dove sono io? Arrivo da te Sì Arrivo da te e ci faccio scoprire, te lo dico già Fere Ci faccio scoprire È andato dagli altri di fronte A noi non ci ha calcolato Quindi fai silenzio Spegni la luce, Fere Spegni la luce Perché mi ha messo la luce Accidenti Chiudi Dove ci nascondiamo? No, non devi Come si chiudono le finestre, Steph? Fere, non puoi chiuderla, mi sa Sì, che la posso chiudere Io sono andato dentro Fere, fai silenzio Allora, si rimette in automatico Stai abbassata E mi sa che è qua fuori, Fere No Non è qua fuori Sento rumori Fere Vado sotto il letto No, no, Fere, ce ne dobbiamo andare Fere, ce ne dobbiamo andare No, sto sotto il letto Fere, ce ne dobbiamo andare No, è una buonissima idea Fere È qui È una buonissima idea Mi ha preso Perché sei scappato? Perché sei scappato, Steph? Ma poi io dico Che sfortuna abbiamo Che era nell'unica casa Di fronte alla nostra Cioè, la mappa è enorme E arriva proprio Nell'unica casa Di fronte alla nostra Riproviamoci Riproviamoci Allora, io sto selezionando Una casetta davvero dispersa In mezzo al nulla Dove nessuno si può aspettare Che c'è, Steph Capisci, così Diciamo Allora, dimmi dove sei Perché questa volta Proviamo a stare in case diverse Dove sei? Di preciso Aspetta, Fere Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Ok Sento un cicci Lala E ho paura Vabbè, è normale che si senta No, no, Fere, Fere Quello si sente in tutta la mappa Sì, non mi interessa a fare Però io avevo paura Dimmi dove stai andando Allora Ho sbagliato, lo sapevo Sono in una casetta Tutta a sinistra Ah, ti vedo, ti vedo Io allora Ce li presenti i bagni La casetta è subito sotto alla destra Io mi sto mettendo Una trappola d'emergenza Così Se Jason arriva Comunque No, no, è una buona idea Io non ne ho trovato E ho pensato ad andare nella casa E nascondermi subito Che non si sa mai Con la sfortuna che Omo lo ritrovo a fianco Certo, lo so, lo so, lo so Infatti sto Sto anche camminando pianissimo Per non fare nessun tipo di rumore Anche io anche io Sono andata tutta in Acquacciata E sto vedendo se trovo Magari anche un coltellino svizzero Sai, comunque Avere qualche via di fuga Aumenta le possibilità di vincere Allora, se lui si accorge Che tu sei sotto il letto Non hai via di fuga Secondo me nessuno Quanto c'è un letto Si aspetta Che io posso stare in questo letto Questo qua è il letto Dove uno non si nasconderebbe mai Perché è troppo vicino alla porta Ok Quindi io me ne sto qua Ho visione sulla porta L'altra porta alla trappola Secondo me sono sicuro Non possiamo neanche vedere Il timer dei venti minuti Quindi Sarà proprio tutta un'ansia Tutto un aspettare Ti dico però Ok Che sto guardando gli obiettivi Fatti dai player per adesso E hanno messo il gas In entrambe le macchine L'ho visto Quindi teoricamente Stanno provando No, 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 no Ti prego, ti prego, ti prego Ti prego Non venire qua Ti scongiuro È già vicino a te? No, no, no C'è un player Che ha deciso di venire da me Dopo l'ultimo video Io player non ne voglio proprio vedere Vorrei che mi lasciassero in pace Nella mia casa Ti lo consiglio Uccidilo Lo picchio? No, uccidilo Lo picchio, Ferea Eh sì Sta entrando Sì è entrato Ma perché ti dovete attaccare? Scappate in macchina Ferea No, io non ho parole Cos'erano questi versi, Steph? Si è lanciata sulla finestra Ha spaccato il vetro della finestra E ha iniziato a urlare Come non so che cosa Perché ti ferisce E Jason è appena arrivato qui Cioè Jason è nella mia casa Io sto rimanendo sotto al letto Così abbiamo subito la prova Se funziona, Steph Vediamo se Ma che è la prova, Ferea Dai È roto, tranquillissimo E mi è arrivato qui Ma non può impedire agli altri Di venire a distruire Guarda, stanno scappando in macchina C'è già qualcuno Che scappa in macchina Quindi Jason potrebbe essere Distratto dall'auto E andarsene Ok È una buona cosa Sta prendendo l'altro Se guardi nella mappa E se ne stanno andando Perfetto, perfetto La tizia è venuta Si è presa la batteria Della macchina E se ne è riandata Quindi teoricamente Ha fatto rumore E se ne è andata Esatto Però sta arrivando la macchina Però ma non è che Come saltare in macchina E scappare No, 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 no Ragazzi è arrivato Jason Vi prego Non è entrato in casa Non è entrato in casa Ha distrutto l'auto Fer ha distrutto l'auto Ha distrutto l'auto Ce li ho a fianco Fer ma perché Vengono tutti qui Non stanno entrando in casa Li vedo Ah tu zitto 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 Perché potresti farcela Steph Potresti farcela Se funziona Il nostro piano Tu ce la puoi fare Quindi fai silenzio Ma anche questi qua Perché entri Nella casa Dove ci sono altri player Vedi un'altra parte Che devi far morire tutti Credo che Non ci sia più Uno dei player Se ritene trasportato Bella cosa Bella cosa Aiuto Mamma Mamma Guarda la mappa Io li sto guardando Dalla mappa Come si muovono Quindi capisco Un pochettino La situazione Ok Però vedi che segna Nella mappa Macchina distrutta Sì 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 Va bene Va bene Sono riusciti anche A farsi distruggere La mappa Vabbè basta ripararla Ok uno in meno Ne ha ammazzato due di tre C'è soltanto uno Dei tre vivi Che spero scappi totalmente Dalla parte opposta Di dove sono io Così magari Adesso entra in casa Nel letto a fianco al tuo Esatto Guarda sicuro Esatto Aspetta che Tratengo un po' il respiro Ok fare credo Che abbia appena steso L'ultimo Dai dai rumorini Che mi sono sentito Non proprio belli Io da qui sono lontana Quindi fortunatamente Non sento E sono abbastanza Io mi sto correndo Io mi sto correndo uno spettacolo Con le orecchie È proprio Fantastico Bello 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 Rilassante E infatti è andato Rimani solo tu Steph Tu e altri due Però gli altri Aspetta Steph Gli altri due si stanno muovendo Lo so E anzi uno è molto veloce Quindi indica che sta correndo E sta facendo rumore Quindi anche lì Jason potrebbe essere sempre distratto Da quello che Allora Il discorso è questo Se con due Lui adesso avrà Premattuto un player Avrà premuto due Se gli sono comparso Ovviamente mi punta Perché sono qua A fianco a lui Mi sistema E rivederci grazie Se con due Però non mi ha visto Lui prende Si teletrasporta dall'altra parte della mappa E proprio dove sono io Non penserà mai che c'è qualcun altro Certo Perché c'è già stato Certo Quindi C'è una buona chance Per ora non è venuto Non so dove sta Non riesco a capirlo Eccolo 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 Lo vedi Nella cosa a fianco alla mia Guarda Lo vedi Sì E infatti da quello che stava correndo Perfetto 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 Io sono abbastanza sicuro Non so quanti minuti sono passati Credo sia anche Tornato in vita Tommy Jarvis Sì Quindi c'è di nuovo un altro player Da diciamo sistemare per lui Che potenzialmente può fare chaos E distrarre Quindi ci farà Diciamo guadagnare altro tempo E non è male Il piano per ora sta funzionando E non è per niente male Mi sono spaventato un po' troppo Perché sono capito da te Troppe sfige verso di me Già due volte In questa casa Eh io ho un po' paura Steph Perché il player è nella casa È proprio a fianco alla mia Cioè se quello gli viene in mente Di entrare da me Capito Quando lui entra E sei sicura Approprio appena entra Jason Nella casa per ucciderlo Tu trattieni il respiro Perché così Lui ammazza quello E se ne va Ferre ti stanno circondando tutti Perché Oddio 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 Steph sta arrivando C'è una festa in casa Ferre Andatevere vi odio Vi odio Ok Jason è lì Jason è lì sta cercando Di chiaparne uno Ora ti entrano tutti e due in casa Ferre Ti prego Perché mi odiate così tanto Ferre Io vi odio Io adesso Steph Il prossimo game che iniziamo Li ammazzo tutti E gioco da sola Ma lo dici ogni volta perché non lo fai mai No zitto perché mi sto arrabbiando Ma che cosa serve che sto zitto Ferre Non lo so mi metti ansia Ok Oddio sento rumori brutti Steph Allora ti spiego la situazione Di persone che si squartano Tu sei dentro la casa Hai tre persone fuori Più Jason Ok E stanno rissando malamente Stanno usando anche la torcia Perché ti devi far Ma vuoi morire Ok una è andato Una è andato Ferre Mi piace morire Sono rimasti in due Insieme a te Aspetta Devo sentire Perché appena entro a casa Mi alzo i volumi Appena entra dentro a casa Io devo trattenere il respiro Concentrata Ferre Ok Secondo me loro sono leggermente fuori dalla tua casa Anche secondo me non sono entrati Non ho sentito forte Sai cos'è la brutta notizia? È che credo che stanno per morire entrambi Ok Ma meglio No Ferre sei pazza Io credo che manchino ancora tipo sei minuti E se muoiono entrambi Rimaniamo solo noi due Da cercare per tutta la mappa Mi viene un'ansia gigante Tieni il respiro adesso Perché loro se ne vanno Ok Quindi lui segue uno dei due E anche la tua casa a quel punto Dovrebbe diventare sicura Perché appunto lui c'è già stato E non si aspetterà dei player lì Si sono totalmente separati Uno verso la strada Ok Meno male che me lo stai dicendo Io sto cercando di ascoltare Allora C'è Gesù che sta spaccando una porta Perché sento legno che si Ma da te? Shhh shh Secondo me Gesù Trattengo il respiro Lo vedo lo vedo No Ferre Oh mio Dio Ha distrutto un letto Adesso prova il mio No Prova il mio Io lo so No Ferre Io lo so Io lo so che prova il mio Ti prego Vattene va Prova il mio Prova il mio Ti ha trovato? Sì Sicura? Mi ha trovato No Steph Io li ammazzo tutti Io adesso Adesso Tu esci e li uccidi Uccidili No li devi uccidere Tu non li devi uccidere Gesù Ovviamente hanno fatto talmente tanto casino in casa Che lui ha provato tutti i letti Lo vedevo proprio di fronte Che provava a Diciamo con la lancia A trafiggere tutti i letti E ovviamente è arrivato Anche lui è scarso proprio Perché non si è accorto che i due sono scappati via Lui aveva visto solo due persone Quindi se ne vedi due fuggire via Non devi stare a controllare i letti da casa Perché sono scappati Lui guarda Allora contando che li ha provati tutti i letti Ti assicuro che non mi aveva visto È stata solo sfortuna Nel senso che li ha provati tutti E giustamente poi becca anche il mio Certo Però non mi aveva visto Aspetta È qui Sto cercando di vedere da te È qui Uno nella tenda Ok vedo Sto vedendo la tua visuale No ma si è fissata a provare tutti i letti Aspetta Ha distrutto l'armadio Ma ha beccato un tizio Ho sentito delle urla Un tipo E forse sì Vero Neanche te ne sei accorto che bevi un tipo nell'armadio Non lo so Ha spaccato qualcosa Ho sentito un urlo Che ansia Credo che sia andato Nel campeggio E quello sta scappando Esatto Però si ha trovato uno nell'armadio Magari capite È soddisfatto No 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 Allora io credo che il tizio nel campeggio Abbia trovato un cadavere Quindi ha urlato Jason sentendo che l'urlo Se ne è andato da casa mia E è andato lì Perché c'è uno Poi nascosto No mi sta venendo un player qua Ti prego non venire Ti prego Non entrare in casa mia Ti scongiuro Prenditi la macchina Ripalla E scappa via Ma non venire qua Se non fosse per i player Questo piano funzionerebbe alla grande Io te lo dico Ti prego sali in macchina Se non fosse per gli altri Aspetta Mi è entrato in casa Sì lo sento Mi è entrato in casa Mi è entrato in casa Ma perché devono fare queste cose Consolini mi è entrato in casa Anche questo Non bastava due volte Non bastava Avrei ucciso Se volete vi invito A una festa A un party Guarda E balliamo tutti insieme Magari Gesù si addolcisce Decide di partecipare Sì sì Ho sentito come si è addolcito Ha spaccato qualche finestra Che è davvero un terremoto È una roba più tranquilla Ma qui non gli basta aver ucciso me Perché è stata colpa Qualcuno ha preso la trappola E mi sa che è il tizio Ma dai Cioè prendi pure la tra Ma perché giocate così No no Sono morto Sono morto Sono morto Ho appena tu uccidato uno Nel letto a fianco al mio Esatto Quindi adesso Sto guardando la scena Steph No ti prego Non provare il letto Dai vattene È andata Vattene Se ne va Te l'ho detto Te l'ho detto Vedi però Non ti vede Non ti sente È quello che ho detto Oh cazzo Sto rando No No sta provando l'altro letto Aspetta È fissato quei letti No è fissato quei letti Steph Aspetta 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 Appena si avvicina Io trattengo il respiro Ma li sta provando a caso Io non so perché Li provo a caso Lui sta provando a caso Di nascondigli Perché ha capito che Molti player si sono nascosti E vedi che li sta provando tutti Come ha fatto da me Però non ti vede Altrimenti sarebbe andato dritto Nel tuo letto È la stessa cosa È successa a me Quindi funziona Ma dai Sei accorto dell'ultimo letto Ma che sfiga Dico io Spero che se già ci esiste Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che avete detto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao